un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su cast clash in un video molto particolare sono in compagnia di vanishman ciao a tutti ragazzi e anche di giulio 22 ciao a tutti ragazzi allora in questo video speciale andremo a fare veramente un rolling su due account diversi il primo di albicocca il bosco di marzapane che saluto e andremo subito a rollarci queste 35k gemme tutte quante ad eroi senza perdere ulteriore tempo non so perché castor clash un pochino lagga però non lo so l'ho fatto anche ieri e una cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo video è il primo di tre video che abbiamo fatto ovviamente ci saranno rolleroi o due account poi rollerà anche due account vanishman e altri due giulio 22 rispettivamente il video uscirà sui loro canali questa è una cosa che mi ero scordato di dire prima quindi iniziamo a subito trovare il nuovo ero eccolo qui con questi 4 e 50 se come no diamo un po 150 150 sono un po più culosi dracula dracula però con la schilla 11 ma ci si può portare la schilla 11 a dracula mi pare diventerà tanta roba però qui stiamo cercando com'è che si chiama ieti com'è che si chiama il sasquatch il sasquatch ragazzi assolutamente tutti lo vogliono tutti lo cercano e quindi dai eccolo invece no il golem di centocinquantino di centocinquantini e poi ragazzi una pugnalata dove sono viola giove eccolo no invece iniziamo le scommesse dai iniziamo dai devo trovare il sasquatch ragazzi c'è il sasquatch esiste viene darò la prova lo troverò eccolo rodolfo c'è stanno arrivando eroi come se non ci fosse un domani ma non c'è il sasquatch mi piace tantissimo dire sasquatch suona bene sasquatch se esce suona anche meglio dai 4 e 5 cercava solo sasquatch o c'era qualcos'altro non mi ricordo in questo momento cercava solo sasquatch o qualcos'altro bella domanda no mi pare sasquatch fosse il più gettonato di tutti dai sì è tutto quello dai ormai questo quello ci vuole la novità la novità vogliamo la novità col 450 cupido slagone cupido slagone incredibile vediamo un poco 350 addestratori di belve la cosa positiva è che almeno non stanno riuscendo doppioni almeno tutti diversi almeno quello dai almeno la diversità almeno 19k jam signori tanti leggendari ma non quelli che volevamo devo invece no niente signori dalle copie di serviviamo per gli incanti a ok mi sa spezzacuri rucno qualcosa per gli incanti però cosa che lo trova solo il nome è bello allora adesso lo troviamo adesso lo lo troviamo vai ecco no niente 150 nulla da fare nulla da fare no no eccolo invece no l'antico lo maledetto maledetto 14k james dai però lo voglio trovare eccolo no il duca zucca prima cosa la prima una zucca in testa adesso seduti su una zucca è il prossimo è un sasquatch che non c'entra un cazzo invece no un altro stagatrix ragazzi c'è un deja vu anche lo stesso ma ho cliccato oppure è stata una laggata non lo so vediamo e adesso non vedremo più leggendari fino almeno le 7000 gemme ne sono sicuro un paio rapidi però 150 secondo me il sasquatch è qui perché il sasquatch è uno e uno è singolo e solitario e come è nato prima il sasquatch o l'uovo di sasquatch non si sa 8000 7000 eccolo invece c'è grim e grimm ho letto si stanno uscendo a panni a pacchi però niente rock non niente di di queste cosette nuove qui 5200 già ma attenzione draco un altro dracula è pagato e pagato non escono cioè non escono è buggato 2800 gemme signora le ultime 2800 gemme dobbiamo trovare il sasquatch albi con queste 2800 gemme quindi clicco x qui si veramente ci torna attenzione 150 450 un altro 450 e questi attenti di farraone no dai 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 no linfa oh no maledizione beh il 450 della vittoria il sasquatch al centro bam invece no ultimissime gli lascio 300 ultimo ultimi due forse 400 no 150 ultimo ultimissime dopo campione giardinoso come fa uscisa squash come fa come fa come va devo dire un sacco di eroi proprio un sacco però purtroppo nessuno degli ultimi cioè ce n'erano tanti usciti ultimamente e sono apparsi soltanto prediente eroi anni 80 perché dei retro eroi insomma perché il più recente uscito è rodolfo eh sì quindi si parla di un anno fa si parla di un anno fa niente degli ultimissimi eroi un gran peccato saluto ancora albicocca la ringrazio per avermi fatto fare questo roll sul suo account e andiamo invece sull'account di aragorn adesso che sta cercando ovviamente il sasquatch e atena quindi speriamo di essere un pochettino più fortunati non tanto in quantità quanto in qualità in questo rolling iniziamo subito dobbiamo rollare 40k gems quindi andiamo spediti col primo duca zucca che cos'era quello un aries perché mi ha cliccato due volte perché mi va un po laggoso penso fosse un aries comunque c'è la maledizione delle zucche oggi eh barba bianca così su due piedi è uscito va bene vediamo ormai guarda l'uca zucca ragazzi cioè non droppano uguale non droppano uguale 4 e 50 dai fate vedere un ieti non è possibile tutte queste gemme ancora esce stregone stregone che però finora non l'avevamo ancora visto medusa medusa devo dire che escono escono ma escono quelli vecchi quelli che ormai non ci servono più vogliamo la novità becchiamogli questo ero nuovo aennio dai linfo no succube io sono succube sono succube di tutte queste gemme senza trovare il sasquatch dai 150 un altro 150 la disperazione di un uomo che non trova il sasquatch dai paledizione michael ma però gliene stai a picchia pesante sì un sacco ce ne stanno uscendo un sacco ma ma il più nuovo ha ormai un anno cammina sta dicendo le sue prime parole ha detto papà attenzione doppio gozilla di neve e cavalier morte cioè si parla di 2014 vai 450 vabbè sono dannata dai sono stati all'umidità giusta senza luce va a finire che sono anche con un talento vediamo con questo 150 il ciclopino faraone 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 non ne vuol sapere ragazzi non c'è non c'è ma c'è fatto l'aggiornamento perché qui non esce mi sa che l'ultima volta ho aggiornato a febbraio dell'anno scorso forse il l'emulatore mancano tutti si forse questo è il problema e mancano tutti perché nemmeno spiego che barba bianca il più nuovo no qual era attento candy cagna non ci posso credere non ci posso credere attenzione 454 disperazione valentina valentina 22 mila gemme dai fa del retro satana orco della rovina pure leggo dai dai dagli due due competti velocis su un acceleratore mettiamo il tiglio dai due da 4 e 50 forza tu trovi roba dai così ogni volta che rollo tantissime gemme non esce mai quello nuovo sto guardando il tuo bs mi sembra che non torni a qualcosa ha impallato nox praticamente si si era me l'ho tolto dal codificatore e io non me ne sono accorto meno male che se ne è accorto Vanish che me l'ho detto dalla condivisione schermo perché se no io nemmeno l'avevo visto c'è quello là sotto piccolino e sparito non l'ha mai fatto che sparisse così e non ricomparisse più e quindi sono si erano 20.000 ci siamo saltati praticamente una 15.000 gemme non vista in cui però praticamente non è uscito niente mi dispiace per questa cosa perché il disguido tecnico io non me ne sono accorto anzi ringrazio Vanish che se ne è accorto almeno siamo salvati queste ultime 5.000 gemme e speriamo bene che questa sfiga sul codificatore del video esattamente esattamente dai non ci deludere invece orcola rovina orcola rovina porco della rovina veramente porco della rovina eccola un'altra candy canna niente ragazzi io sono un po' sfigato perché un po' in tutti i sensi mi ha maledetto un altro duca zucca cioè stanno uscendo nella pioggia i leggendari proprio adesso ma ne dov'è creazione dai allora fatemi uscire creazione 0.1 no atlanticulo cioè ma ci rendiamo conto 2700 gemme vuoi uscire fuori gli ultimi eroi non stanno uscendo ragazzi completamente non sarebbe interessante fare un bel graffino no perché mi sembra che ti sono uscite tipo una decina di zucche 6 o 7 ma veramente ma poi cioè è assurdo nessuno nuovo cioè un Anubis un Ronin un pistolera niente niente attenzione druido e folletto un altro e io ragazzi che cosa dire sono arrivato a 390 gemme che lascio non mi ricordo nemmeno se mi aveva detto solo 40 o se intendeva tutto sinceramente non lo so fatto è che in questi due rolling non sono riuscito a trovare nessuno dei nuovi eroi usciti comunque nell'ultimo anno e mi dispiace perché dai un creazione sprovi trovarlo un'Athena qualcosa in 70 mila gemme davvero che sono fa riflettere davvero fa riflettere davvero anche perché non possiamo nemmeno pensare che la probabilità di droppare una zucca siano le stesse di droppare una Nubis o un creazione se no non avremmo visto 8 zucche e 0 dei nuovi eroi quindi non lo so sinceramente non lo so comunque è stato divertente a parte il disguido tecnico che ci ha fatto perdere una decina di k gemme perse nel video che non ci sono comunque non c'è uscito niente a parte un folletto in quelle decimila gemme quindi non ci siamo persi molto non so se in qualche modo ve lo farò vedere all'interno del video ringrazio anche Vanishman e Giulio22 per aver partecipato al video e vi invito ad andare a vedere anche i successivi video che usciranno insieme penso in contemporanea dopo prima non lo so sui loro canali che vi lascio anche qui sotto in descrizione lasciate un bel like se il video vi è piaciuto saluto Aragorn e anche Albicocca le ringrazio ancora e mi scuso per questo piccolo problemino io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti